E' scritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Crimini a facoltà. Signor Presidente, colleghi senatori, interveniamo direttamente in dichiarazione di voto per semplificare la discussione. Abbiamo aderito senza idugio alla proposta di costituzione della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, condividendo l'idea che i diritti umani, inteso come rispetto dei diritti fondamentali della persona in materia estremamente complessa che va affrontata e richiede un'attività specifica, coordinata ed organica. L'obiettivo di questa Commissione, ripercorrendo i percorsi dell'esperienza nelle legislature precedenti, dovrebbe essere la realizzazione di iniziative volte ad ottenere l'abolizione della pena di morte nel mondo, introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura, tutela dei diritti del fanciullo, garanzie per chi si trovi privato della libertà, promozione e attuazione del diritto di asilo, lotta alla tratta degli esseri umani, lotta contro il razzismo, xenofobia, discriminazione delle minoranze e il divieto di mutilazioni genitali femminili. Insomma, un percorso verso l'affermazione dei diritti umani come patrimonio e conquista dell'umanità. Vogliamo denunciare con forza, però, che la necessità di ricorrere ad una Commissione speciale per la tutela dei diritti umani è l'ennesima affermazione implicita del fallimento della politica. È singolare che sia necessario ricorrere a distituire una Commissione speciale quando basterebbe garantire il rispetto delle leggi ordinarie esistenti e dei trattati internazionali. La Corte europea dei diritti umani ha diffuso il rapporto riguardante le condanne inflitte ai Paesi membri del Consiglio d'Europa che hanno violato i diritti umani. Dal rapporto emergono dati sconcertanti e vergognosi, soprattutto per il nostro Paese, condannato al pagamento di 120 milioni di euro a titolo di risarcimento su un totale di 176 milioni combinati in tutto i diversi Paesi membri. Al secondo posto, tra gli Stati più sanzionati la Turchia con 23 milioni e al terzo la Russia, con soli 7 milioni di euro. Una questione di grave rilevanza istituzionale, oltre che sociale ed economica, che non può esimerci dal mettere al centro dei nostri dibattiti parlamentari la questione del diritto e dei diritti. Se a questo aggiungiamo, a titolo di esempio molto specifico ma significativo e di pubblico dominio, la grave situazione in cui versano gli istituti di pena nel nostro Paese, che ci vede nell'emore di un altro impellente procedimento da parte della Corte europea che il Governo ha avuto anche la sfrontatezza di impugnare, mentre è sotto gli occhi di tutti che nelle nostre carceri vi sia un tasso di sovraffollamento record di quasi 70 mila presenze contro le 43 mila presenze regolamentari. Ma non è da trascurare e deve essere inserita nell'agenda di questa Commissione la grave situazione relativa alla legislazione che regola l'immigrazione in Italia, che ad oggi si configura nella pratica come creatrice di un immenso serbatoio di mano d'opera a basso costo per la criminalità organizzata. Ma la tutela dei diritti umani passa anche dal garantire l'accesso al credito a tutte le fasce di popolazione oggi in difficoltà. Cosa che non avviene mentre continuano ad operare e prosperare speculazioni finanziarie è il sistema criminoso dell'usura, incentivato di fatto proprio dall'attuale congiuntura bancaria. Premesso questo, passando invece ad una questione procedurale, ci siamo chiesti perché sia oggi necessario procedere alla costituzione di un'ennesima Commissione speciale nell'emore della Costituzione delle Commissioni permanenti. I temi di cui sopra sono importantissimi e delicati a riguardo a una dimensione che va ben oltre il nostro Paese. Ma quale Paese oggi può ergersi a difensore dei diritti umani se non è in grado di salvaguardare la dignità e prevenire le tragedie a cui in questi giorni abbiamo assistito? Sarebbe un gesto molto più nobile, responsabile e soprattutto efficace mettere il Parlamento nelle condizioni di operare e portare a compimento iniziative legislative concrete volte a ridare dignità a quelle famiglie che oggi affrontano la crisi senza vedere la luce in fondo al tunnel, nonché garantire il rispetto della legislazione esistente con riferimento alla tutela dei diritti della persona. Sarebbe un grande gesto mettere da parte tutte le prassi consolidate, eventuali bramosie di poltrone per dare a questo Parlamento la dignità che gli compete, per mettere in moto quella macchina legislativa necessaria da affrontare il grave momento che stiamo attraversando, per realizzare il reddito di cittadinanza, sostegno alle piccole e medie imprese e altro. Solamente dopo aver dato avvio a questo processo, questo Paese può dirsi maturo a tal punto di ergersi quale difensore dei diritti umani anche a livello internazionale, con la dovuta credibilità e dignità. È stata citata la Convenzione di Istanbul che, per essere recepita, ha bisogno delle commissioni permanenti perché deve essere approvato un disegno di legge. Per quanto sopra il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle stigmatizza ancora una volta il costante ritardo nella Costituzione delle commissioni permanenti, nel sollecita l'avvio e chiede fermamente che questa commissione, signor Presidente, qualora l'Assemblea ne dovesse approvare la Costituzione, sia formata solo dopo l'avvio delle commissioni permanenti. Riteniamo sacrosanti i diritti dell'uomo, del fanciullo, del migrante, della donna, di ogni altro soggetto che in qualche Paese nel mondo vede calpestati i propri diritti. Ma se c'è un Paese che in questo momento sta calpestando questi diritti è l'Italia. È questo Parlamento sordo alle richieste che vengono dai cittadini in difficoltà, che davanti all'interesse del popolo mette le necessità di trovare numeri che compongono una maggioranza. Per concludere, Presidente, chiedo due impegni, cioè una domanda e un impegno. Innanzitutto, quanto costerà questa ennesima commissione? Data l'importanza delle sue finalità, chiediamo fin da ora ai promotori della mozione di impegnarsi e alla Presidenza di attivare tutte le procedure necessarie al fine di ridurne i costi. In particolare chiediamo l'azzeramento delle eventuali indennità aspettanti a Presidente, Vicepresidenti e Segretari, che dovrebbe essere considerato un onore presiedere questa commissione. E in ultimo, permetteteci di toglierci un sassolino dalla scarpa. Perché per l'istituzione di questa commissione speciale e straordinaria, a differenza delle commissioni permanenti e delle giunte, non si è posto il problema di conoscere con certezza la composizione della compagine di maggioranza e di opposizione? Non era un fattore indispensabile per la creazione di qualunque commissione? Per quanto sopra, il Movimento 5 Stelle voterà comunque a favore della creazione della commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, auspicando il rispetto delle condizioni sopraenunciate. Grazie. Grazie, senatore.